Da fine aprile il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha approvato la riforma del patto di stabilità, prevedendo una ulteriore stretta sul bilancio italiano del 2025, cioè ulteriori lacrime e sangue per il nostro Paese, quindi restrizioni. Le simulazioni della Commissione Europea indicano una riduzione del deficit primario strutturale di circa 0,5-0,6 punti percentuali annui per sette anni, insomma un sacrificio tradotto in 10-12 miliardi di euro all'anno, che ovviamente vorranno dire meno servizi ai cittadini e più tasse per le famiglie delle imprese, traducendo quindi un rapporto di deficit-pill che dovrà scendere all'1,5%, insomma una cosa da folli. Il potere negoziale della Commissione e gli equilibri del Consiglio dei Ministri europei saranno cruciali per l'applicazione delle regole e ovviamente il voto per il nuovo Europarlamento influenzerà l'elezione del Presidente della Commissione e la distribuzione di nuovi incarichi a commissari, incidendo sulla governance dei bilanci pubblici. La riforma prevede degli obiettivi anni di crescita della spesa netta e del saldo primario strutturale di bilancio con possibilità limitate di spostamento e di scostamento, cioè avremo le mani legate, salvo delle revisioni assolutamente poco credibili. L'analisi di sostenibilità del debito della Commissione definirà la traiettoria per ridurre i famosi fetici che ormai da decenni tutti siete abituati ad ascoltare, cioè il debito-pill e il deficit-pill sotto il 3%. Il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha criticato la riforma, sottolineando la mancanza di progressi nella finanza pubblica comune e la necessità di semplificazione delle rebugole. La compatibilità con la Costituzione italiana che prevede l'anticiclicità del bilancio rimane un tema rilevante. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai c'è una separazione tra il mondo delle imprese e il mondo della politica. Sul mio sito valeriamalvezzi.it io mi occupo solo di imprese e di scelte strategiche delle imprese. Il 3 di luglio farò un webinar gratuito al quale potete iscrivervi tramite il mio sito nel quale parlerò per esempio delle nuove norme ISG e di come queste impatteranno in modo drammatico su tutte le imprese che io tutti i giorni incontro per la consulenza. Mi rendo conto sempre più che il linguaggio dei burocrati e il linguaggio dei piccoli medi imprenditori italiani sono due linguaggi completamente opposti. I primi hanno come unico obiettivo quello di fare carriera sulle loro poltrone di velluto mentre gli imprenditori liberi professionisti e soprattutto i piccoli produttori fanno fatica a mantenere aperte le aziende per queste regole che stanno diventando una mannaia di tipo burocratico assolutamente insostenibile.